Salve a tutti amici, bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale. Potrete commentare tutte le notizie qui sotto, proprio nella sezione commenti. Grande fratello 2023, se questa doveva essere la stagione del politicamente corretto allora qualcosa è andato storto. Nella giornata di ieri Jill Cooper, Fiordaliso e Anita Olivieri sedute sul divano mentre guardano altri concorrenti ballare hanno fatto pesanti apprezzamenti su un concorrente, aditandolo come omosessuale. Ad aprire è stata Anita che ha detto, lo vedi il bacino? Basta. Pensiero che aveva espresso già qualche ora prima. Comunque io ho una teoria che non posso dire. Lui non è così il sportivo come sembra. Non è una cosa sbagliata, ma è la mia ipotesi. Non voglio sentirmi in colpa a pensarlo. Pensare a una cosa del genere di un ragazzo mica è illegale siamo onesti. Parole che hanno incontrato anche il favore di Fiordaliso e pare anche di altri. Ok è la nostra teoria, magari sbagliamo. Di sicuro non ne parlerò. Però penso che non sei l'unica a pensarla così. Perché mi hai acceso questa cosa? La pensavo per i cavoli miei e adesso sei venuta tu a dirmelo. Il web ha criticato il loro cattivo busto e chiesto per la puntata di questa sera provvedimenti ufficiali. Ad essere preso di mira è Vittorio Menozzi che non ha ancora commentato perché non sa che questa conversazione è avvenuta. Intanto stasera sarà resa dei conti. Il televoto che giovedì scorso ha eletto Alex Schwarzer il concorrente meno votato in questa tornata di votazioni è servito a eleggere il nome del primo eliminato in vista della puntata eliminatoria di lunedì 6 novembre, data in cui sarà decretato il nome del prossimo concorrente eliminato dal gioco. A rischiare di dovere abbandonare la casa sono cinque concorrenti in totale, Alex Schwarzer, Giampiero Mughini, Giuseppe Garibaldi, Giselda Torsan e Angelica Baraldi.